E' ormai voluto tu O proviamo O proviamo a vedere quanti Keltuzad riusciamo a tirare fuori oggi Basta Io liberei Questo All'inizio, subito così Mi passa a un dardo di cielo, si E' buono Ah, meno male se è mal ligato questo Non c'è nemmeno ritornato Salve Salute a te Salute a te, non ti prenderemo nemmeno un po' per il culo in questo caso Specialmente se fatti così Dai, forse, 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 forse questo ci permetterà di farcela Ci permetterà di farcela Soplinerei Ci permetterà Tu Tu No prendere Candela Ti spiace se scelgo necessità Prada Facile No E A In A Sì, so che volevi mettere longevity ma invece no No, no, va bene. Sì, era meglio lupi. Sì, lo so, me l'ho accorto dopo che... Che caro. Sì, forse questa è la meglio, se è meno risposto a Exile. Oppure si fa una tempesta. Siamo a parecchi per bene. Siamo a parecchi per bene. Se uno metta al nos va a conservare quel tempesta. Ci si potrebbe mettere un drago, tipo un... Che... Ah, è quello? Un'altra espetta svolta, è facile. Facile, no? Caro, se è il 2-2-1. Forse questo ce lo permetto. Ho come questo presentimento. Quanti fezzogli abbiamo in combo? Uno. Porca troia. Da dove si può fare Lighting Statue questo? Io farei. E questo non è che ci lo lascia in campo. Io lo vedrei. Guarda, si fa questo. No. Si fa Ex. Si fa Ex e si ammazzava. Pluf, pluf. Ma saranno le ultime 4 carte, io lo so. Beh, è uguale. L'ultime, però. Gli ultimi saranno i primi, quindi. Ma quello lo giovan tutti i maghi, tipo. Ma anche se non avessi nemmeno una carta blu e dovessi giocare a Airstone, metterei quello. Ah, effettivamente. Fire Emblem Chalz. Ah, senti il bel sonino. Boia. Come quando si riuscirà la carta. Che tra l'altro non mi si ammazza nemmeno. No, quello sì. Con il 5-6. No. Quanto fa 6? Un 7-8. Si ammazza. Che si sta facendo? Che cosa mi fa? Il gigantone. Questo? Dello stianti. Dello stianti se non fa nulla. Se fa tipo... Cioè, sovraccarico 3. Se fa qualunque cosa. Siamo morti, in effetti. Può non essere la cosa più intelligente. Prova a mettere il curatore. Vabbè, il resto muoio. Vabbè, il silence è buono. Questa situazione. E poi... Tempesta. Per forza. Tempesta. Ok, ti scopri. Ma è buono. Ok, ha usato Atlet. Non ci scopri. Eh, non c'è un po' di Atlet. Però del signore Atlet. Che è successo? Ci ha fatto tipo pulito. Tipo pulito? si allora io metto i lupi eh si si metti i lupi e gli silenzio a due setti va beh quel coso è un battito sto prima a pescare tutto smazzo si e meno male perché ancora siamo a 2 su 4 ma è che con che la levavo il coso con polymorph un danno a tutti fireball a koatek quindi zero polymorph ancora attirato e una fireball una fireball è buona non ammazza il tu sod tipo ora secondo me per il momento sei il suo momento con du mana che si fa niente niente no vabbè ma con du mana oh ancora niente oh si uno e uno beh è un altro esplosione bella giocata questa volta hai vinto maledetto maledetto si vede a circa a casa hotel fai fior bene allora concede a un maestri anche è bello anche questo di tornare al rank 20 apposta sono un maestro della magia ma perché l'hight install non posso scegliere su chi falla uuuuuh mi piangono mi piangono mi piangono mi piangono mi piangono se la polymorph è ero più contenta ma so che gli si può dare un maestri a un polymorph ma c'è il bonus che si pescola non ho tempo per giocare ok niente totem ovviamente dai fuori se no te sentirà puzza di presa per il culo visto non si fa il totem che tre turni che si passa così ok perfetto ci ha ammazzato il totem grandissimo perfetto va bene va bene se ne frega se ne frega un cazzo se ne ruba uno dice qua non lo facciamo morire mai più eh merda si può fare ah si può fare devi mettere i thalnos e l'unica cosa che si può mettere e che lui ci ammazza sicuro ci fa pescare vabbè abbiamo fatti di benzezza che si vana quando muore ah si nooo l'ha ammazzato bisogna fare prima lightning storm e poi tan e poi tan ah è vero cazzo bisogna fare prima lightning storm e poi tan un'unico al mondo in cui bisogna fare prima lightning storm e poi tan ah perfetto invece così guarda e quello è resì è di però che nessuno sopra questi grandi come devi fare 3,6, non giochiamo a carte non scadiamo in queste cose quante carte abbiamo? 3 6, manchiave no 6 copia copia sicuro è il segreto base non deconcettarti ci sta tutto giusto? 3,3 ammazzata 3,3,4,1 perfetto no è perfetto no perché ci mancano polimor io non sono pronto ah no fireball c'è fireball no che faccio? night in storm che? night in storm? no no io gli voglio da questo un posto a polimor ok perchè? perchè? perchè 3 danni? che? ah perchè volevo levare la potenza magica frostbolt marimma merda frostbolt ora ci ammazzò a sto cosa eh dai mi ha top deck a polimor era il dubbio del 3,3 di oreo no 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 dai kirk un po' top deck a polimor dai sei sicuro? si si sono sicuro vai vai tranquillo vai tranquillo no così questo è si è fatto una nazzata quello mi asos come come vabbè è uno uno tanto va bene ah uno va bene perchè uno va bene uno va bene no ti giuro se top deck i polimor mi fai incazzare però lo fai sul 6-1 si si cazzo aspetta e poi fra l'altro no bravissimo perchè se adesso noi facciamo morire il 6-1 sull'1-4 non lo ammazza accidenti a te hotel mi dai rete o no? che? che cazzo? eh perchè se noi facciamo prima morire nel nostro turno lui riusciva alla fine quindi se si riempiva il board e chi se ne frega quello rimaneva fuori capito va bene si sta per fare si stava registrando vero? si si ok opla uno no ma che bella gioata sta carino aspetta no 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 come no? prima glielo risco e poi refai su uno dei due e spiri avancettate non è voluto è più di 6 vabbè facciamoli da poco per bene è uguale è uguale è uguale bravi schiavi ma che fare? che fare? che fare? che fare? sei giocato per benino bravo aspetta ci abbiamo un modo per ucciderci un cat usato è giusto che fa il board ti è ma fa pure a me la magia che il 6-1 dai riasci riasci 20 volte una falla morì ora niente ho quasi finito le carte ho quasi finito le carte ma mi sono divertito riuscire a erogare se Jeff mi sono tremendo un paio un nemico mi sono tornato rotto ah 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 ma ci è rimasto ma la quarta partita e fa sono in via sua Grazie a tutti